Una bella partita, tosta e avvincente quella che ha visto protagonista Francaville-Pallavolo-Cerignola nella terza e ultima giornata di ritorno del campionato di Pallavolo-Seghe B2 femminile al Palazzetto dello Sport della città Tarantina. Le Pantere, allenate da Michele Valentino, hanno perso con il punteggio di 3-1 contro la vice capolista del torneo. Per la verità i primi due set sono stati equilibrati almeno fino a metà dei rispettivi parziali. Poi Francaville ha avuto il sopravvento, condice anche troppi errori delle Pantere. Il primo set termina 25-17, il secondo 25-16 per Francaville. Nel terzo set c'è la reazione della Pallavolo-Cerignola che lotta punto a punto contro le quotate avversarie e vince 25-22. La quarta e ultima frazione di gara, equilibrio soltanto nelle primissime basi. Poi Francaville prende il sopravvento nella miglior maniera e per la Pallavolo-Cerignola c'è poco da rimettere in sesto. Finisce 3-1 per la formazione delle Francaville e per le Pantere il sogno di arrivare nei play-off Spuma. Finisce 3-2 per la formazione delle Pallavolo-Cerignola. Finisce 4-1 per la formazione delle Pallavolo-Cerignola.